e benvenuti in questo nuovo video oggi un video un po particolare perché qui ho il drone la gopro dato che dovrò andare a fare qualche ripresa a lorenzo che adesso sta seminando in questo campo quindi magari adesso ve lo faccio vedere mentre viene gioco il trattore poi conosciamolo un po meglio dai vediamo come come si evolve iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.